usci il cuore di nuovo pecorella sono qui per farti godere intrattenere perché tanto solo quello che fare tu solo vedere queste cose fare poi se ne parla pecorella di marda dai ti faccio divertire con un altro video pecorella di marda andiamo sul sito della giornata mondiale che così possiamo capire un po meglio il sistema però che cazzo serve a capire se a voi non mi fa da fancazzo che cazzo vedete questi video si può intrattenimento andiamo avanti vediamo di giocare a divertirci adesso ahahah dai ridiamo ahahah allora partiamo con c'è questo sito noi siamo al sito delle giornate mondiali cioè partiamo quindi dall'inizio dell'anno gennaio febbraio c'è la giornata mondiale della pace pecorella devi stare buona poi c'è il dialogo fra le regioni e omosessualità anche questo pecorella ti dice qualcosa se hai il cervello ovviamente dovrebbe dire qualcosa no del fatto che loro stavano cercando di unire tutte le religioni pecorella perché non me lo fai in grandina grazie giornate mondiali dell'abbraccio però occhio che adesso con il coglione un po non esageriamo gli abbracci giornata internazionale dell'educazione buono buono sì a bunch of slaves un po di schiavico e qui giorno della memoria capito ricordate che poi ritorna questo quindi dobbiamo fare di tutto per evitare e che si ripeta una cosa che abbiamo creato noi allora giornata mondiale per i malati di lebra ottimo giornata mondiale del velo islamico ci piace anche questo andiamo oltre giornata mondiale della vita e il 2 febbraio stai contendo e per sostenere questa cosa la vita noi il 2021 abbiamo creato una cosa buona che ti fa molto bene giornata mondiale delle zone umide perché non parlarne questo tutto questo che parla dell'ambiente l'ho messo perché fa capire che loro ci dicono che dovranno salvare la terra quindi tu uomo non puoi stare in natura devi stare solo nelle città non puoi bruciare la legna e tutte queste cose qua giornata mondiale della lotta contro il cancro e per diciamo dare una mano a questa lotta noi il 2021 abbiamo ma anche da prima del 2021 introduciamo delle sostanze buone nel tuo corpo nell'aria nell'acqua che bevi nel cibo che cibo tra virgolette che mangi eccetera eccetera giornata mondiale della nutella ecco giornata mondiale di questa merda tossica qua buono è safe safe internet day l'internet deve essere sicura non più questi cazzoni che dicono fake news questi hacker cattivi che creiamo noi dobbiamo fare leggi un po che limiti questa libertà perché altrimenti ci sono i cattivi che poi è solito giornata edizionale delle donne e delle ragazze nella scienza ottimo perfetto giornata mondiale del malato per dare una mano al malato noi dal 2021 abbiamo eccetera eccetera darwin day l'evoluzione parola prima eri così stupida ma il il futuro è sempre più rosio parola prima mamma mia schiavi brutti pelosi faticavamo ma adesso adesso tutto meglio parola andiamo qua siamo arrivati al 20 febbraio bellissimo giornata mondiale della giustizia sociale vabbè bellissimo bellissimo giornata mondiale dell'orso polare qui stiamo a livello ambientalismo quindi pagora la terra non è tua dobbiamo salvarla giornata mondiale del backup ecco tu non lo sapevi ma c'era la giornata 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 internazionale dei viaggi dell'uomo nello spazio sogna è tutto vero questo giornata internazionale del bacio però occhio perché insomma non esageriamo questi baci senza mascherina giornata della terra pagora occhio ok pagora non puoi fare niente altrimenti non puoi usare la terra fare quello che vuoi così usare le risorse no no pagora tu devi morire in un campo di concentramento giornata mondiale della libertà di stampa certo giornata mondiale del calcio bellissimo grande risorsa il calcio giornata mondiale dell'igiene delle mani pagora giornata intenzionale senza dieta insomma senza dietro giornata intenzionale senza dieta pagora magna la nutella magna quello che cazzo di fare non stare a dieta insomma stare attento lì a quello che mangi mangiate tutto dai stop dieting today oh yeah giornata mondiale del colore dobbiamo essere buoni pagorella che dobbiamo unire tutti questi popoli insieme quindi dobbiamo amarci pagorella giornata mondiale della password tutti amiamo le password in un mondo dove non ci si può fidare uno dell'altro noi dobbiamo così rinchiuderci e ci deve essere la sicurezza perché la mente umana e stronza si creano barriere cose che se fossimo sani di mente non chiuderemo le cose però che dica siamo bambini allora e che cosa abbiamo qua siamo a maggio giornata mondiale del vivere insieme in pace a pecorella a pecorella un unico mondo mondiale com'è un unico governo mondiale un'unica pecorella un'unica reich giornata intenzionale contro l'omofobia stop 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 talking bad about the China you know stop doing that you know we love this sterilized ship they are very good for population control giornata mondiale al whisky brucia i neuroni pecorella allora giornata mondiale è buonissimo l'hamburger ragazzi è buonissimo per la tua salute tutto quanto specialmente su quello del mcdonald e ti metto queste altre pezze di carne qua che a te piacciono tanto però te le puoi solo sognare perché queste qua sono così un qualcosa così di mitologico le donne specialmente quando hai un po' di cervello scappano da te diciamo allora giornata intenzionale del peace peacekeeper loro 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 tengono la pace proprio che la pace loro l'UN l'UN è il nuovo ordine mondiale ragazzi l'UN nazioni unite un'unica pecorella loro creano i conflitti e poi vengono lì ah non ci pensiamo noi fermi tutti noi sappiamo che lo facciamo vengono loro e ci chipono la pace loro ci chipono la pace ce la chipono e dobbiamo ringraziare che loro ci chipano la pace giornata mondiale dell'ambiente bellissimi ambiente quindi sempre stiamo su quella su quell'aspetto lì diciamo del non toccare la terra stai inquinando stai cambiando il clima poi tu schiavo l'unico modo per migliorare le cose è metterti a fare il vegano in una bella bella città grossa con tante paere che non vi parlate uno con l'altro nel vostro nel vostro buco di casa e davanti allo schermo tutto il giorno bellissime cose già quindi giornata mondiale del naturismo giornata mondiale del naturismo ma com'è però pegola naturismo ok però la mascherina la devi mettere a pegola ok vediamo vediamo di capirne di più l'international naturist naturist riconosce no ricordiamo stiamo parlando di questa roba qua andiamo tutti inuti no perché non c'è nessun effetto vedere il membro così di un'altra persona molto sano riconosce la prima domenica di giugno convenzionalmente abbiamo giornata mondiale del naturismo in tale occasione le sessioni naturiste di tutto il mondo col cazzo dei fori organizzano gli eventi per divulgare il cazzo eh per divulgare la filosofia naturista il naturismo è un movimento che si propone di promuovere un contatto diretto con la natura privo di arti cifosi di arci e convenzioni sociali partendo dal rispetto verso le persone eh per arrivare al rispetto degli animali e dell'ambiente ok questi rispetto agli animali e dell'ambiente questo per levarti tutto quando loro daranno diritti agli animali tu non li potrai più nemmeno mangiare pagora attraverso uno stile di vita che vede la nudità come logica conseguenza del proprio modo di essere interiore un naturista ha una vita sana si alimenta con prodotti naturali un vegano molto probabilmente pratica attività sportiva all'aria aperta e il suo stare nudo ha un componente sociale che infatti realizza sia in spazi privati sia in spazi pubblici bella roba ma andiamo avanti che siamo giunti così senza nemmeno accorgersi al 17 giugno giornata mondiale per combattere la deserfiazione della sicilità che noi creiamo controllando il clima però insomma noi ci teniamo anche insomma a curare quello che noi creiamo giornata mondiale della gastronomia sostenibile tutte verdure e del graname del granaiame tutti i cazzetti che te fanno benissimo invece insomma di prendere esempio dal nostro sverice che mangia pezzi di uomini ecco ma perché li tieni così ma mangiatelo no mangia c'hai fame sei secco mangialo porca puttana gli devo di tutto a questi giornata mondiale per l'innovazione della violenza sessuale nei conflitti armati cioè attenzione ragazzi giornata mondiale per l'eliminazione della violenza sessuale nei conflitti armati io figure this shit out giornata mondiale dei profughi pecore così ti muovono quando non sei più diciamo in controllo della tua vita vieni mosso di qua e di là pecore giornale internazionale della yoga giornale del servizio pubblico delle nazioni unite come ci servono questi con le due colonne massoniche che bello giornale internazionale delle donne al volante pericolo costante giornale internazionale contro l'abuso del traffico in legge di stuprofacenti che facciamo entrare noi però intanto ne chiapiamo qualcuno così per far vedere insomma che non vogliamo queste cose ah cattivo giornale internazionale per le vittime di tortura ma noi vi stiamo torturando da quando siete nati però insomma ci teniamo anche a migliorare un po' le cose su questo aspetto allora giornata mondiale del cane in ufficio lo sapevi il 26 giugno pagola di merda pagola ma scopriamo di più una città pagorella da merda questi cazzo dei cani che ci avete specialmente quando state in città mamma mia chiamate più i cani che l'uomo allora la presenza del cane sul posto di lavoro garantirebbe maggiore produttività a pegola schiava e al contempo uno stress inferiore e così la pegola mi produce di più pegola e spronerebbe la pegola ad aumentare l'impegno e la produzione stessa a pegola così lavori meglio per satana il sistema e la matrix brava pegorella asteroid day ragazzi giugno 30 asteroid day comincia a fartela sotto giornata mondiale degli ufo io oio oio per favore non mi rapirà lì no non mi mettere la sonda anale non fare sperimenti su di me uffa uffa però giornale mondiale dei bikini le vogliamo tutte così mignote porca puttana così le vogliamo questo 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 oggetto misterioso la donna mitologico nei film ci dicono che è semplice averne una su questa terra siamo 50 per cento uomini 500 donne in teoria non dovremmo avere problemi ma queste zoccolette sono state programmate ad andare dove sono i soldi e quindi pochi fortunati diciamo hanno la fila perché questo sono mignottelle diciamo vanno da chi c'ha i soldi e noi si ammazzano dei pippe bellissimo ragazzi è questo tutto un piano per depopolarci mettono in testa a questa roba qua di andare a popolare sono quelli che lavorano per il sistema chi non lavora per il sistema se deve ammazzare pippe dobbiamo diffondere solo i geni delle pecore che lavorano per il sistema grazie donna le nazioni unite ti ti ringrazio per il tuo le tue scelte veramente lungimiranti e molto molto sagge brava donna sempre più sexy ci ha messo ore e ore del tuo giorno a diventare così vegana eccetera eccetera queste cose qua sei bellissimo non ti vuoi di niente sei veramente bellissimo però insomma sì ok continua a perdere sempre più tempo a diventare così a tingere i cali creme cazzi mazzi che ti metti che poi ti fanno diventare stupide perché quella merda che metti nel corpo te la mangi ti entra nella pelle e poi ti fa diventare stupide come sei purtroppo però va bene così continua così sei bellissimo sei sexissima sei sexissima guarda guarda come sei secca e sexy bellissima sei allora andiamo avanti non so c'è stata un'interferenza ragazzi io non sono assolutamente per quelle cose che ha detto quella persona di prima io amo le donne è un essere veramente angelico bellissimo molto intelligente e saggio la donna e andiamo avanti allora giornata mondiale del bacio però con la mascherina ecco giornata mondiale del cioccolato che ti fa molto bene te lo dicono anche gli esperti questa roba tossica qua fa benissimo allora giornata mondiale delle emoji ok Nelson Mandela ma infatti ecco che cazzo devo fare io mi sono scordato porca puttana dammi il clown qua questa qua sto video deve essere sempre accompagnato da questo clown world c'è un famoso ecco andiamo avanti così Nelson Mandela International Day ecco giornata internazionale della birra brucia i neuroni se mi fa bene non ci pensare allora giornata internazionale no 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 non farmi no ecco questa to the fucking top livello superiore il clown va sopra tutti allora giornata internazionale in ricordo le vittime del terrorismo che noi abbiamo causato bellissimo giornata internazionale della commemorazione del commercio degli schiavi della sua abolizione ma perché non ah no giusto siamo libri non siamo più schiavi adesso scusa mi sono per un attimo pensato che di essere insomma nel famoso 2022 quando la gente era veramente schiavo non so perché ho avuto questo allora giornata mondiale contro il test nucleare bellissimo tutti così miti diciamo che mettono in testa la pegola così spostiamo il nostro amico qua mettiamolo qua perché queste sono tutte cose da clown proprio terrorizzare la pegola con il nucleare la bomba che non c'è questa cazzo di bomba ti devi cagare sotto insomma quindi controlliamo meglio allora giornata mondiale per la custodia del creato oh che vuoi l'ho chiamata creata e non madre terra ma dai ma sono buoni allora giornata internazionale del benessere sessuale ma io mi ammazzo di pippe perché insomma l'altro senso ma me l'avete elevato indirettamente l'avete mind control to be a whore no so i can just jerk off at this point benessere sessuale un par de cazzo devo stare attento a non che non so a non tagliarmi la mano perché altrimenti come cazzo faccio sarà difficile così fare poi avere quel benessere sessuale che mi serve senza la mano diciamo quindi io faccio di tutto per proteggere le mie mani diciamo che è quello il mio benessere sessuale diciamo in questo stato delle cose diciamo giornata mondiale per la prevenzione del suicidio e per dare una mano diciamo a questo dilemma questo problema che abbiamo noi il 2021 no no il 2020 abbiamo messo tutti in casa proprio per dare una mano a questa cosa alla prevenzione di questo problema insomma grave insomma allora vediamo qua clown ti puoi togli un secondo grazie grazie giornata internazionale senza sacchetti di plastica bellissimo bellissimo giornata mondiale della consapevolezza sul linfoma ok che noi creiamo con le merda che ti facciamo già allora giornata mondiale oppure ti dicono eh ti devi far controllare no vai lì vai dal dottore che vuole il tuo bene ti dirà se hai bisogno di noi o meno le pagole ci vanno come i coglioni allora giornata mondiale della democrazia bellissimo giornata mondiale della protezione della fascia dello zono un altro mito che non esiste che è una cosa naturalissima lo zono e loro te lo dicono come se sei tu a causare la pagola di merda giornata internazionale clown ti puoi spostare grazie della fascia ecco clown mettiti qua clown pego e giornata mondiale senza auto ok pego non devi avere niente né macchina né niente devi morire allora giornata mondiale dei sogni sogna pego la merda sogna senti clown mi ti vuoi spostare non mi giocare no no clown ti prego giornata mondiale contro la rabbia pego la devi essere buona e pacifica ok pego la ok pego la non così come questo cane rabbioso perché insomma poi ti cazzi con noi e non possiamo più stare alle tue spalle diciamo così quindi pego ti vogliamo pacifica e buona io non capisco c'è solo un cazzo in culo perché ti cazzi qual è il tuo problema scusa perché non sei buono come tutti gli altri morti diciamo pego la giornata mondiale del cuore e insomma per migliorare questa condizione noi dal 2021 abbiamo introdotto nel tuo corpo delle cose che fanno bene al cuore ok giornata internazionale della non violenza ecco mettiamo la giusta foto diciamo qua la giornata della memoria e dell'accoglienza ok pego vi stiamo unendo vi stiamo facendo cancellare insomma mischiare tutte queste pego così abbiamo un grigiore non più diversità ma abbiamo un unico modo di pensare un'unica pego senza cultura senza memoria senza niente quindi ricordiamo che quanto è bella l'accoglienza pecorella cioè il fatto che stiamo cancellando giornata mondiale degli animali attenzione poi lo rivedremo questo perché si tratta del quando l'animale viene visto come un qualcosa che non puoi più toccare te faranno mangiare solo erba però poi non parliamo questo allora giornata mondiale contro la pena di morte ma scusa ma voi ci ammazzate da sempre scusa invece allora giornata mondiale della salute mentale che dire insomma salute mentale giornata mondiale per la riduzione dei disastri naturali che noi creiamo giornata mondiale della eradicazione della povertà certo noi stiamo facendo di tutto per rendervi ricchi e wealthy and everything else con l'introduzione del come il comunismo 19 allora giornata mondiale della menopausa ragazzi bellissimo giornata mondiale dello squash bellissimo anche sì molto interessante giornata delle nazioni unite bellissimo il nostro nemico diciamo hanno dedicato una giornata è il 24 ottobre che se non sbaglio è la giornata della è di gandhi questo no il 24 ottobre se non sbaglio allora giornata internazionale per l'apoglio tutti quella bella gente che vanno lì in quella parte del mondo che che curano quelle persone diciamo farle fuori diciamo e noi li dedichiamo un giorno diciamo giornata mondiale del ictus cerebrale nel 2021 abbiamo cercato di dare una mano a questo problema abbiamo quindi giornata giornata mondiale della psoriasi ragazzi non so perché invece di mettere uno pieno con la forfora e i brufoli schifosi in faccia hanno messo questa questa zombie qua allora giornata mondiale vegan ecco parola così ti vogliamo devi mangiare solo erba allora clown per favore ti puoi spostare no no senti fammi leggere ti prego fammi leggere porca puttana di levi giornata mondiale della costruzione sui tsunami che noi creiamo ovviamente perché controlliamo sia terremoti maremoti e tutti e tutti e tutti i moti allora giornata mondiale per la scienza e per la pace e lo sviluppo giornata mondiale contro la polmoniva e ci pensa l'unice ragazzi a salvare i bambini con i loro succhi magici giornata mondiale della gentilezza pevola pevola buona pevola giornata mondiale del gabinetto porca puttana qui c'è un gabinetto e io ho detto ma cos'è sta roba e adesso il clown world ce lo dirà allora il 19 novembre è la giornata mondiale del gabinetto ok si celebra dal 21 dal 2001 da quando è nata l'associazione mondiale del gabinetto a singapore per merito di un signore che si fa chiamare mr toilet perché si batte affinché tutti abbiano un gabinetto decente anche grazie a lui nel 2013 l'assemblea generale delle nazioni unite ha votato dall'umanità affinché il mondo almeno in questa giornata rifletta ma bastano cinque minuti porca puttana qui c'è gatti ragazzi diciamo andiamo per onori tra gli obiettivi del millennio delle nazioni unite vi è quello di dimezzare la procedura di persone che vivono senza servizi igienici entro il 2015 siamo molto lontani dal traguardo più di un miliardo di persone ancora pratica la defecazione all'aperto la maggior parte vive in zone rurali porca puttana va su invece delle città diciamo smart tutte unite va su campi e c'è sfuglia a fare la cacchina porca puttana fossi o binari ferroviari porca puttana oppure usa sacchetti di plastica la sanità è più importante dell'indipendenza diceva gandhi porca puttana io insomma rifletterei su queste parole di gandhi beh poi se uno ci pensa però siamo in un clown world tutti i problemi che ci sono insomma cioè se noi fossimo in natura la cacca sarebbe concime però stiamo parlando di cose insomma così che hanno logica in un mondo illogico in un mondo illogico allora ultimo punto se state leggendo questo news sul vostro smartphone proprio mentre siete seduti sul wc fate attenzione è stato calcolato che almeno una volta nella vita si commetta uno sbaglio una sbadatagine io di tanto leggo parole che non esistono ragazzi ci avete fatto caso nei video immagino far cadere il telefonino nel water tipo per esempio peggone e poi come ti possiamo programmare e spiare questo telefono è l'unica cosa che non accade a chi è il water non ce l'ha e quindi ragazzi preghiamo per quelli che non hanno il water ragazzi affinché le nazioni uniti portino loro l'igiene e tutto quello che serve per insomma avere una vita dignitosa bene ragazzi quanto manca clown disposti giornata internazionale della memoria transgender porca puttana clown world giornata mondiale della televisione porca puttana giornata universitaria per l'eliminazione della violenza contro le donne porca puttana ma come si fa come si fa picchiare questi angeli come si fa giornata mondiale della ice porca puttana che noi creiamo ovviamente giornata internazionale dei diritti degli animali una volta che i diritti degli animali senti clown disposti grazie una volta che questi creeranno i diritti degli animali tu non potrai più mangiare carne a pegora lo sapevi questo pegorello stiamo a dicembre comunque abbiamo finito giornata mondiale dei diritti dell'uomo i diritti della pegora la pegora è nata per essere macellata che cazzo di diritti vuole la pegora giornata internazionale della montagna sempre così tu fra poco queste zone qua saranno off limits perché tu stai causando inquinamento e cambiando il clima con le tue sporcizie e bruciando la legna a pegora quindi queste saranno cose che vedremo solo in foto fra poco a pegora ma tanto attenzione di andare in montagna non ti va a pegora io lo vedevo anche con i camminatori quando stavo lì a lozzare voi siete proprio stressati quando state in natura non vi piace volete subito tornare nel vostro cemento allora questa è l'ultima se non sbaglio giornata internazionale della solidarietà umana siccome dobbiamo unire tutte queste pegora dobbiamo essere buoni e per concludere in bellezza ragazzi giornata mondiale dell'orgasmo andiamo a casa che meglio ciao